Sono un assisto che io aspetto il ministrato, e sono un attorno, ti ferma ma mi dimentico il ministrato. Non faccio passare, ma prima un paio di firma e poi di potenza, facciamo il ministrato. Però tu mi dici che è quello dopo, quindi non sta lunga, non è quello dopo. 84. Scusa, mi spiace, però... Scusa, mi spiace, ma... Scusa, mi spiace, però... Ma forse accelerando la fine del ministrato. Grazie a tutti.